E' chiaro che vedere un'immagine di un attore, soprattutto in un film riuscito, come potrebbe essere Tre Fratelli, Giocattolo, Mabarata, è chiaro che sarebbe stato forte. Però è più facile, invece io credo che portare la presenza di una persona che non c'è, senza mandare in continuazione, a rotazione, spezzoni di film, in qualche modo è un po' una sfida. Abbiamo scritto insieme con Daniele Frecchi le domande, i testi delle interviste, è più bello essere attivi piuttosto che semplicemente, un po' tradituiti, tristemente, i che hanno perso il genitore. Giovanna! 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 Non so perché, quasi tutti i partiti. La cosa che devo dire in un attupito è veramente questa, cioè che sembra che si è passato molto poco tempo nel modo in cui la gente ne parla, sembra che si è passato un anno, ma non il 15, questo è sconvolgente.